Guarda ti vedere. Prende il scopo. Dove stai? Prende il scopo. ... cammini cammini da dove va l'avanti o all'indietro? all'indietro? lei all'indietro e poi viene avanti non fa la scema all'indietro dai non fa la scema all'indietro ora vediamo a l'indietro ok questa è la presa per voler ok 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 Grazie. 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 Allora, cinta, cinta, cinta cosa mangia? Le banane? Vabbè, ci basta la banana, la banana gentile di destra. Scusi, no, possiamo rivedere il rallentatore perché mi è sfuggito qualche cosa. Sì. Ah, quella banana, la banana. Il nostro buono è Gianni Baldoni. Una presentazione. Il nostro impianto è rispettabile e danno i detersivi davvero efficaci come Atla Slavatice. Certo che la speciale formulativa di Atla Slavatice vi dà i massimi risultati anche dei punti più critici del vostro pubblico. Ma lo sa, le sue sostanze sono di origine medica. Vieni anche tu dalla parte di Atla Slavatice. Atla, perché quando si parla di un piede, siamo tutti sulla stessa barca. L'Innes presenta le specialità. Un percorso diverso per ogni diverso momento di navigo. L'Innes, primi morimenti, primi passi, primi giochi e notti. Le specialità, l'Innes. La ruota. La ruota. La ruota. La ruota. La ruota. La ruota. Grazie a tutti. 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 Dov'è? Grazie a tutti. Yeah. Yeah. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 qua. a tutti. a tutti. a tutti. Chi è venuto? Ha fatto il bravo, non ha fatto Monella? Ha fatto il bravo. Dove sei andato alla casa della bimba? Mirella ti chiami? Gabriella. Gabriella. E tu fratello? Daniele. Ah, Daniele, ho avuto un po' di... Gabriella e Daniele. Hai visto, mi sei dato la bimba, hai detto la bimba? Hai giocato con la bimba, sì? E bravo Francesco! Che ti stai mangiando? I biscotti hai mangiato? I biscotti hai mangiato. Ti sei fatta male qui? Sì. Dove? Nell'erba? Non ha le scale. Di casa tua? Ti si fa tutte le scale, dove? Niente è per l'altra. Non metterla male di l'altra. Un po' di cose, non metterla. Un po' di cose, non metterla. Tu non ciò ne ha che la cramella qua. Stai, qui, quando le mangiare? Di casa. Grazie. Uuuuh che combinante! Che combinante? La mette in una busta. Si, in una busta. Si puli dentro a mangiare. Fa tutto sporco. Si puli dentro. Ma che pulite? Non vuoi? È scrutticoso. Si, riprendi pure che mettiamo in testa. Come si chiama la vita? Gabriella. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Francelle. Gabriella. Francelle. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama. Dai, la prima. Dai, la prima. ... ... ... dai l'altra Gabriela dai l'altra è buono? bella, bella mamma, guarda e ehi ma io ti faccio ma le angi perché noi ci andiamo a fare anche prima di qua prendiamo la porta chiudila e lei che te ne vai? che sorpreso non ha niente e io ti lascio e te ne vado che esce grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.